è tutto pronto per il via della moto gp 2016 dopo l'emozionante duello rossi lorenzo anche questo moto mondiale si preannuncia più che mai agguerrito le novità regolamentari e l'incognita dei nuovi pneumatici ci accompagneranno dal gran premio del catara a quello di valencia 18 gare tutte da vivere e da soffrire un campionato mozzafiato che ci darà in collaglie delle schermie che coronerà un unico vincitore secondo i bookmakers sarà ancora lui orge lorenzo ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo il pilota di palma de maior che infatti dato come favorito su mark marquez e valentino rossi ma attenzione ad educati le rosse di borgo panicali sembrano aver ritrovato competitività soprattutto con andrea giannone che viene indicato come quinto pretendente al titolo